In ambito agricolo è necessario formarsi continuamente, la formazione diventa essenziale per un imprenditore agricolo. In questo senso la Coldiretti ha organizzato tre webinar di formazione. Coldiretti di Torino, con il contributo della Camera di Commercio Torinese nell'ambito del progetto filiere, ha organizzato tre webinar, seminari in rete o teleseminari per i soci Coldiretti. Formarsi per non fermarsi, strumenti per la competitività delle imprese, questo è il tema del ciclo dei tre webinar. Il primo webinar si è svolto il 14 aprile. Roberto Ruo Redda, responsabile area economica Coldiretti Torino, ha presentato le misure strutturali del PSR, la misura miglioramento fondiario e quella sull'insediamento giovani. Il secondo appuntamento si è tenuto il 21 aprile. Mauro Daveni, responsabile area tecnica Coldiretti Torino, ha spiegato le certificazioni e il PSR, programma di sviluppo regionale. Il terzo e ultimo appuntamento è stato in agenda il 28 aprile. Guido Cartaino, responsabile fiscale Coldiretti Torino e Coldiretti Piemonte, ha informato su credito d'imposta beni strumentali. Ecco le interviste con il presidente della federazione e due dei tre relatori. Come Coldiretti Torino abbiamo pensato di organizzare dei momenti formativi e informativi, approfittando un po' di quello che è stato, come dire, l'obbligo di virata tecnologica che anche le nostre imprese hanno dovuto, come dire, a cui si sono dovute adeguare in seguito all'emergenza coronavirus. Sono davvero poche le cose positive di questo anno e mezzo di pandemia, che ha davvero ridisegnato un mondo, un modo di fare, un modo di vivere, e rispetto al quale non siamo ancora perfettamente fuori. Diciamo che se una positività la vogliamo vedere è stata l'accelerazione nei confronti delle tecnologie digitali, attraverso le videoconferenze, la dimestichezza che volente o non lente abbiamo dovuto avere nei confronti di questi strumenti. Abbiamo cercato di approfittare di quelli che potevano essere gli aspetti positivi forniti dalle nuove tecnologie e diciamo la rapida abitudine che anche le aziende agricole hanno dovuto, come dire, impadronirsi rispetto a queste tecnologie per creare dei momenti formativi e informativi. Sono stati fatti alcuni incontri beta per cercare di capire e testare il gradimento dell'azienda rispetto a questi nuovi mezzi e dobbiamo dire che l'esperimento è riuscito piuttosto bene. Sono stati effettuati tre incontri che hanno abbracciato un po' il panorama delle politiche agricole comunitarie, della qualità dei prodotti e anche dell'aspetto fiscale, con degli incontri di un'ora, un'ora e trenta minuti, che hanno visto più di 50 partecipanti, come dire, sempre diversi, accedere a questo tipo di servizio. Quindi riteniamo che l'esperimento sia riuscito e ci ha dato grande soddisfazione, tanto che cercheremo di ripetere queste iniziative di volta in volta, in cui ci saranno necessità di arrivare in modo rapido ma anche puntuale ai soci e poter permettere di approfondire alcuni aspetti interessanti per le imprese. Credo che prossimamente, sotto l'aspetto, come dire, della tecnologia e dell'impresa digitale, potremmo avere nuove offerte che crediamo vadano proprio nella direzione di semplificare un po' la vita alle imprese che comodamente da casa possono accumulare dei contenuti che diversamente potevano, in epoca precedente, apprendere soltanto recandosi presso gli uffici zona o presso le riunioni che periodicamente facciamo con i soci. L'incontro di oggi ha come tema la certificazione del PSR, in quanto alcune misure del PSR, in particolare la misura insediamento giovane e la misura miglioramento, prevedono di attribuire dei punteggi, per l'esattezza tre punti, che non sono assolutamente pochi, a tutte quelle imprese che rientrano nei regimi di qualità ammissibile, quindi hanno una certificazione che può essere di prodotto, di sistema, di processo, di filiera, e pertanto il tema di oggi sarà proprio quello di approfondire le certificazioni ammissibili e far comprendere alle aziende i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'entrare in un regime di qualità e quindi dall'avere una certificazione. Abbiamo deciso di trattare questo tema proprio perché l'esperienza del PSR ci ha insegnato che spesso e volentieri, pur di prendere dei punti, si fanno a volte delle scelte un po' avventate. E quindi la necessità di fare delle scelte consapevoli parte da una corretta informazione sui pro e sui contro di prendere determinate decisioni. Le aziende interessate sono sostanzialmente tutte quelle che hanno in previsione, visto che i bandi per il miglioramento e per l'insediamento giovani sono di prossima pubblicazione, di partecipare ad alcuni di questi bandi. Tratteremo anche brevemente in conclusione della misura 3.1, che è la misura del PSR che tutti gli anni finanzia con un bando annuale le spese di certificazione. Oggi abbiamo organizzato questa webinar incentrata sul tema del creduto d'imposta dei beni strumentali con l'obiettivo fondamentalmente di trasferire alle imprese tutta una serie di informazioni che possono poi eventualmente ritornare utili in una delicata fase, quella appunto dell'effettuazione degli investimenti in beni strumentali, fondamentali chiaramente per far progredire, per far avanzare le imprese di tutti i settori, ma nello specifico anche le imprese del settore agricolo. Quindi l'obiettivo, come ho già detto, è proprio quello di trasferire tutte quelle informazioni che consentono poi all'imprenditore di riuscire a fare in modo sereno, in modo tranquillo, tutte quelle valutazioni che poi chiaramente si mostrano fondamentali nella scelta imprenditoriale di fare o meno l'investimento. Abbiamo per questo motivo raccolto tutte quelle informazioni, analizzando i documenti, i documenti partendo proprio dalle norme, ma anche attraverso uno scrupoloso esame dei documenti di prassi, fondamentalmente quelli dell'Agenzia delle Entrate, e abbiamo cercato in qualche modo, in alcuni casi, laddove non c'erano dei documenti perfettamente incentrati sul tema, di fare delle interpretazioni, di fare appunto dei percorsi logici che in qualche modo portassero a stabilire o meno cosa sia possibile fare all'interno chiaramente di una valutazione di investimento.